dai dai ce li riprovare non si ferma, non si ferma anche la canzone poi lei, senza te è fantastico ragazzi non ci riesce non si ferma arriva, arriva, arriva è successo davvero così ed è lui non lo vediamo dov'è, dov'è è rimasto dov'è abbiamo anche la nipote di Michael Jackson lo vediamo cammina ma è sempre lì è fantastico Stefano si è allenato che cosa romantica senza te non ve la può riuscire abbiamo l'originale salite salite dai però sta migliorando ha fatto il giro ha fatto il giro dai oh dai 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 regalaci un'emozione regalaci un'emozione prego prego aspetta 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 Il peso bravio, il biondo, ma qua c'è una bella grafica. Il peso bravo, il peso bravo, il peso bravo.